E alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse, amico mio, sei guarito, è incredibile. Una settimana dopo era sparito ed è ancora così, non ho più dolore alla schiena e nulla più. Bruno Gröning era diventato famoso negli anni 50 come il guaritore miracoloso e anche se Gröning nel 1959 muore, si verificano sempre guarigioni stupefacenti. Poi vado a questa conferenza informativa e sento parlare di una forza di cui fino a quel momento non conoscevo l'esistenza e poi esco di lì sana. Oggi il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi associazioni del mondo che si occupano di guarigione per via spirituale. L'Einstellen mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere quest'insegnamento tra gli uomini. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. E quando vi accade una cosa così, allora vi rendete conto che è davvero così. Grazie. 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 Grazie.